Cesar Ambrosini, che stagione è a Como innanzitutto, visto che sei ormai uno dei più esperti, uno dei più veterani, chiamiamoti così, anche se sei giovanissimo. Cesare, innanzitutto ben ritrovato. Grazie, grazie a tutti, sono contento di essere qui di nuovo. Speriamo sia una stagione positiva per tutti, non per i primi. Speriamo di tirar dietro la città, i tifosi, voi della radio. Meglio della prossima, della scorsa, scusa, meglio della scorsa. Speriamo sempre di migliorarci, abbiamo fatto un ottimo lavoro l'anno scorso, quindi il gruppo in gran parte è ancora quello, quindi speriamo di migliorarci e ottenere grandi risultati. Parlavo con Giovanni, il direttore sportivo, dice che acquisti mirati per rafforzare una squadra già ottima, con il gruppo storico, diciamo così, Cesare, riconfermato. Molto importante questa cosa. Avere una ossatura è fondamentale in questi campionati. Poi abbiamo ancora il direttore, ha ancora tanto tempo per fare acquisti, per valutare situazioni. Sappiamo benissimo che i colpi avvengono anche a tutto il minuto, quindi aspettiamo, ma siamo sicuramente già morti. Sì, 38 partite, una cosa esagerata. Detto così, esatto, esatto, bravo. Appunto per questo il direttore avrà modo di lavorare, perché 38 partite sono tante, quindi anche se siamo un buon gruppo, fatto di giovani, sicuramente ci saranno squadriche, ci saranno dei problemi di fortuna, ci saranno sicuramente tutte le cose che concernano il calcio, quindi bisognerà essere un gruppo unito, lavorare e sperare il terreno. Una cosa ai tifosi, cosa ti senti di dire? Niente, vi ringrazio del suo apporto che hanno sempre dimostrato e vi invito a essere sempre più numerosi e fare una bella stagione insieme. Bocca al lupo Cesare! Grazie! Grazie!